Voglio un applauso non da piazza San Piego, io rientro, fate finire sia un gran figlio e fatto nullo, se qualcuno vuole dire il prezzo schieno delle votanti, io rientro e vi raccomando delle veda, per il quadro dei popoli prossimi, ci facciamo la storia! Oh, questo si, prego un'unica, Frenchi a Franca! La finale è già iniziata, abbiamo visto prima quella fatta che è un rapa, canta bambina, un'altra vittima della Francia, facciameli un applauso, faccio un like e poi all'aperto la serata, io sono particolarmente legato a All My Project, gli istituti anche di Sperm e su programma apriscono anche, con questo è il contratto per pulirlo anche qui. Allora, la serata, che è a conclusione della giornata, della spilata di Frenchi Modello, la sua produzione è tipo Piazza Grande, Rai 2, vorrei dire un po' così, praticamente è certe che succederanno una serie di cose, molti inoltre lo sanno, perché ci sono lo sanno, lo dico io, che quando partite mesi fa, ovvero, oltre alla spilata di Frenchi e Morello, oltre alla definizione dei nostri modulo pro, che più lo consiglieremo anche noi, grazie a Mike Pace, che tutti conoscete, sono stati realizzati due volte, un DJ contest e un noto, un contest, un noto, un contest, un'anolio, una romantica, un certo mutante la ragazza, capisco, capisco, sono guardi, allora, cosa è successo? Nel corso dei mesi, grazie a una solita crucializzata, sono stati prevenzionati dei DJ in tutto il mondo, e sapremo sapremo chi ha vinto questo contest, che dopo suonerà tutta la festa, che continuerà fino a casa, e ci sono anche i cinque finalisti dei top boys che voi sceglierete, sceglierete chi sarà il top boy di titolare di questo concorso. Ma, secondo i miei, i miei autobus project, grazie anche al programma servizio, ma grazie anche a loro per la cura, mi lavorano poi anche a Europa, sono di ritorno da una sordine in Turchia, che non mi senti più gazzati, mi dicono, ti piace alle ragazze, guarda, mi piace tutti voi.